Oggi io sono qui perché questa è la mia terra, sono venuto più volte e ho creduto da subito a questo progetto e ringrazio tutti coloro che hanno dato un contributo per la realizzazione di questa vittoria. Ovviamente è una vittoria che segna una possibilità di riscatto per questa città dopo uno scioglimento per mafia e da qui ispira un vento che dimostra che la destra si può battere su un tema centrale dove i loro maggiori esponenti neppure ci hanno messo la faccia, quello della mafia e della sicurezza. Quando parliamo di sicurezza per noi non è propaganda, non è un spot pubblicitario ma un impegno concreto preso con i cittadini per garantire a tutti di sentirsi sicuri nella propria città. Questa è una vittoria che noi dedichiamo a delle persone in particolare. Io vorrei dedicare questa vittoria a Francesco Panunzio, un imprenditore che ha pagato con la vita l'essersi ribellato alla logica estorsiva del racket mafioso ed è una vittoria anche che vorrei dedicare ai familiari di Francesco Panunzio. Dal marzo del 1995 attendono l'esatta individuazione di quelli che sono esecutori materiali e mandanti di un omicidio di un onesto servitore dello Stato, ricordo direttore dell'ufficio del Registo di Foggia e ancora una vittoria che dedichiamo ai familiari di Franca Marasco, incisa nella sua tabaccheria il mese scorso, l'aveva appena riaperta dopo le ferie estive. Vorrei dire che questo voto segna una forte voglia di rinnovamento e di riscatto. È un voto e la vittoria dei fuggiani, da parte onesta di questa città, in una città a 40 euro alle elezioni regionali del 2020, lo certifica la relazione del prefetto Esposito che poi è stata inviata al Ministero dell'Interno e ha dato vita allo scioglimento per mafia, al provvedimento che ha sciolto questa amministrazione precedente di centro-destra per mafia.